Valentina Ferragni Alcoachella 2018 La sorella Chiara Ferragni è a casa con il piccolo Leona, per quello che lei stessa ha definito il munchella ovvero la sua pausa per dedicarsi all'anternità. Già alle sfilate dello scorso febbraio Valentina Ferragni era seduta in prima fila, al posto della sorella Chiara, fashion influencer e imprenditrice di moda, appena diventata madre. Intanto, Valentina Ferragni è sempre più ricercata dai brand di moda. Gillette Vinas, azienda leader nel mondo della rasatura femminile, ha annunciato lo scorso febbraio che, a partire da aprile 2018, Valentina Ferragni sarà la nuova brand ambassador. Questa partnership rientra nella strategia del brand di creare relazioni forti con personaggi di spicco in grado di condividere e rappresentare al meglio i chi value di prodotti Vinas. Tra i metodi di epilazione femminile, il rasoio ha registrato una crescita costante in Italia negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le fasce più giovane della popolazione, ha commentato Stefano Bocchieri, assistant brand manager di Gillette. Il rasoio oggi riflette l'attitudine, soprattutto delle più giovani, di essere sempre pronte a vivere pienamente ogni occasione si presenti nella loro quotidianità e il claim della nuova campagna pronta in cinque minuti. Racconta proprio questo trend. Valentina Ferragni è stata la scelta ideale per rappresentare questa nuova generazione di donne e la loro necessità di immediatezza. Nata a Cremona 25 anni fa, Valentina vive a Milano, ha una grandissima passione per la moda e l'interior design e, in pochissimo tempo, è diventata un'icona di stile per molte ragazze. Il suo profilo Instagram è infatti uno dei più seguiti con 1,5 milioni di follow e ai quali racconta la sua vita quotidiana, il suo lavoro, i suoi viaggi e il look più trendy. Sono stata entusiasta di collaborare con Gillette Vinas per la nuova campagna, questo brand rispecchia pienamente le esigenze delle giovani donne di oggi come me che, quando acquistano, non vogliono solo risolvere un bisogno nell'immediato, ma vogliono anche affermare la loro individualità, ha raccontato Valentina Ferragni, brand ambassador Gillette Vinas. La necessità di essere sempre pronte e impeccabili è una costante per chi è sempre connessa e in movimento come me. Pronta in 5 minuti. È una delle espressioni che ripeto più spesso.